Il suo capo un giorno gli fa un'offerta che non può rifiutare. Organizza una cena una volta al mese. La prossima è sabato. Bene. Ognuno trova una persona un po' particolare e la invita a cena. Ecco quello che ho invitato io l'anno scorso. Invitate dei cretini a cena e li prendete in giro? È una cosa malatissima. Perché non mandi giro il rospo e ti trovi un cretino? A volte bisogna sapersi fermare. Tutto bene? Sì. Quella è una Porsche? Sono finito sotto una dazzola una volta. Mai sotto una Porsche. Sai, domani sera andiamo a cena con degli amici. Davvero? È incredibile. Congratulazioni. Ti andrebbe di venirci? Grazie. Di niente. Dal regista di Ti presento i miei. C'è questa cena o no? È domani. Guarda che è stasera. E mi presenti i tuoi? Oh mio Dio, le hai dato il mio indirizzo. Mi persegui da due anni. Se vuoi le impedisco di entrare. Sono una scolaretta birichina. Sei un po' cresciutella per una scolaretta. Oddio. Dove sei? La cena è cominciata. Sì! C'è una complicazione. Due improbabili amici. Si mangia la carta! No! In una pazzesca avventura. Signore e signori, la cena è servita. Sei sicuro di volerlo fare? Il tuo capo deve vedere che sei amico di un vincente. Ti presento Luis e sua moglie Diane. Sua moglie? Per ora. Guardalo. È cieco e spadaccino. E quest'altro controllo mentale. Bravo! Che onore essere qui! Mi stavi guardando le pette? No. Tim, sono serio? Ma figurati... Oddio. A cena con un cretino. Ciao, Tim. Hai preso il mio telefono. Ok? Hai ragione. Non puoi sentire i miei messaggi. La mia password è P-A-S-S-W-O-R-D. Non senti i messaggi? Adesso come si fa?